che cosa fai curiosa guarda 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 sta guardando guarda 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 aspetta aspetta che parto aspetta aspetta pure spruzzino e quindi che voglio dire a rigio questo inverno in australia invece pare che sto stati capisci ma tu si bacio ma ma faci stasatari che pensava non sa che affoga casa cioè mattia no fondamentalmente ma che non è vero lo so lo so l'australia sta all'altro mondo ti manda all'altro mondo ti manda all'altro mondo ti manda all'altro mondo ti manda all'altro mondo e manco le cani non si può dire una parola io te lo dico per tua informazione personale così quando vai in tuo bucciere quando vai in te costruire insomma può fare bella figura ecco la sola figura che faccio anzi che faceste tu faccio io come si chiama e non è sta bella farai abbo seppeggi di tua mamma no no ma l'etaco sarbaggia e pur metterlo in tepatica ecco così